Siamo andando a Torre Argentina per raccogliere qualche informazione, o meglio, qualche impressione sugli esiti elettorali. Vediamo un pochino quello che ci diranno. A Torre Argentina incontriamo Giorgio Pagano, che è segretario dell'ERA e che è stato candidato a queste elezioni per la lista Amnistia, Giustizia e Libertà. Gli diamo una considerazione un pochino complessiva sull'esito di queste elezioni? Secondo me hanno pesato molte cose, sia a livello interno, non comprese in particolare dal nord Italia, sostanzialmente da quella che una volta era, dico una volta non nel senso negativo, ma nel senso oggettivo. In questo momento sembra che praticamente la militanza del nord, che era tra le più attive dell'area radicale, sembra scomparsa quasi nel nulla, con anche delle problematiche secondo me totalmente mal interpretate, perché poi in effetti ci sono state alcune comprensioni, mi pare in gran parte dovute alla questione sostanzialmente del passaggio, chiamiamolo così, o del taxi, come qualcuno diceva di centrodestra. In realtà io sostanzialmente l'ho vissuta come una cosa che sempre abbiamo fatto, nel senso che questo è stato sempre un partito pragmatico, non facciamo ideologia se non relativamente alla radicalità in termini di democrazia e altri valori che abbiamo, compreso anche quello del federalismo europeo che invece ad esempio il momento 5 stelle sembra mettere totalmente in discussione, ma speriamo che su questo ci possa essere un dialogo. Quindi su questo fronte io francamente non ho compreso l'atteggiamento di molti compagni del nord Italia. Per il resto credo che abbiamo anche patito, al momento non vedo fare una considerazione, io me la sono un po' fatta, che in realtà il tramonto del giustizialismo stranamente ha un po' forse influito anche sul fatto che noi eravamo antigiustizialisti, questa è una considerazione che mi pare di non aver sentito fare a nessuno, né dei candidati e così via. Io sono candidato anche nel Lazio, oltre che ovviamente anche nella nazionale, infatti specie nel collegio Lazio 1, ho vissuto entrambe le situazioni un po' da vicino, sia per quanto riguarda la questione di questo orace di cui accennavo poc'anzi, che così scandalo ha prodotto in particolare da alcuni compagni del nord Italia e dall'altra parte, dove di là dell'Italia, ho trovato stranamente una grande scoperta invece nei compagni del sud Italia, al di là poi della questione del quorum e delle cose che sappiamo bene. Da questo punto di vista poi, certo, ci sono mille altre cose che bisogna considerare, l'informazione radio televisiva dalla quale siamo stati esclusi, dei valori che in un qualche modo noi continuiamo a avere presente e poi invece stranamente sembriamo essere tutti d'accordo, ci facciamo dei congressi, ci vediamo in continuazione anche nelle associazioni e così via, poi stranamente di fronte al nostro orace sembrano scomparire del tutto e quindi forse magari se questo è venuto e può essere positivo perché fa chiarezza, da questo punto di vista benvenga, è benvenuto. La scoperta di un sud Italia mi entusiasma nel senso che credo che la disattenzione con la quale in un qualche modo siamo stati visti in particolare dal bacino del centro e sud Italia, in questo caso si è un po' rivisto. Devo dire la verità, anticipato anche noi abbiamo fatto questo convegno l'8 febbraio sull'internazionalizzazione della e nella lingua italiana, dove uno degli ospiti più importanti era proprio il sindaco di Mazzara del Vallo, tra l'altro, che tra l'altro è stato uno di quelli che ha firmato anche per... Possiamo dire che LibriTV l'ha seguito e l'ha mandato in un video. Esatto, esatto, ce l'hai anche tu. E quindi anche queste sono tutta una serie di considerazioni dove evidentemente siamo abbastanza soli e che non passano assolutamente quella che una volta per quanto riguarda il regime dell'Est era chiamata la cortina di ferro. Da questo punto di vista ne abbiamo una anche noi in Italia e questo credo che sia stato spaventosamente eloquente. Dopodiché credo che anche altre cose abbiano influito, anche Scarsessa se vogliamo di comunicazione in particolare, magari rispetto a proprio radicali italiani, forse non ha funzionato qualche cosa. Certamente, ecco questo è un po' il panorama che abbiamo avuto, che è stato certamente deflagrante, ma mi pare che ci sono accavallate talmente tante cose nel giro di pochissimo tempo. Se pensate anche all'idea della lista di promozione, anche quella in un primo momento si pensava che Don Gallo sarebbe stata un'altra lista, un'altra storia. Quindi una storia che si è consumata insieme alla lista nel giro veramente di pochissimi, non dico giorni, ma veramente di ore, perché alcune cose che erano possibili il giorno prima ricorderete tutti anche Albertazzi, poi improvvisamente anche la stessa di Storace, che era una cosa che sembrava a portata di mano e che poi improvvisamente scompare. Non abbiamo avuto quindi certamente i favori del regime che ancora una volta ha scelto quali sono i propri interlocutori e quindi in questo caso Grillo. Dall'altra parte siamo stati anche sfortunati. Io penso che una dose di sfortuna ci sia anche stata, perché poi i tentativi di costruire qualcosa di diverso ci sono stati. Le opportunità anche di prendere e vedere questi radicali che promuovevano liste di non radicali, io francamente mi sono ritrovato quasi alla fine degli anni 70, quando ancora giovanissimo mi sono sentito telefonare dicendo che fai ti candidi e non ero iscritto, ho semplicemente firmato per un referendum giovanissimo appunto al liceo e questa è stata una delle cose più entusiasmanti. In questo caso ho ritrovato un po' quel tipo di politica, evidentemente non apprezzata perché c'è anche molta gente secondo me spaventata, ci sono alcune problematiche non considerate, ad esempio vedo anche in questi giorni che si continua a parlare dei parlamentari, gli stipendi dei parlamentari, no non è quello, secondo me il problema sono i 2 milioni e mezzo o 3 milioni di persone, di politici che non sono parlamentari ma che sono nelle ASD, nelle municipalizzate eccetera. Il corpo grosso della politica è che prendono molto di più spesso dei parlamentari, questo nessuno lo dice, noi l'abbiamo detto più volte, ecco probabilmente se dovessi rivedere un po' la politica che abbiamo fatto, ecco forse siamo stati carenti nel proporci con tutta quella impetuosità che avevamo nell'inituare compresa anche questa, noi 3 milioni di politici che in realtà campano sulle spalle degli italiani ma che non stanno, che non sono i parlamentari, insomma sono tutti quelli che ruotano intorno anche alle cooperative delle varie regioni, molte cose non si sanno, non so perché non riusciamo a farle sapere ma la gente dovrebbe sapere, dovrebbe conoscere come molto spesso il voto clienterale si trasforma in occupazione. Io ho vissuto anche storie di persone vicine in termini di lavoro ad esempio che improvvisamente si sono ritrovati in una cooperativa che veniva fatta ad hoc dove venivano affidati dei servizi ad esempio dalla regione Lazio, questo accade inevitabilmente in tutte le regioni, ecco forse su questo blocco siamo stati un po' carenti, probabilmente presi da questa, come dire, impetuosa non accettazione di quello che era il percorso che si stava tentando su Roma, non comprendendo, ecco perché ti dicevo, probabilmente è anche mancata la comunicazione forse più diretta con i compagni proprio dentro Radicali Italiani, questo è chiaramente una mia impressione, bisognerebbe chiederlo a Mario o a Michele, però ecco siccome loro le riunioni c'erano in continuazione e quindi hanno vissuto 24 ore su 24 tutti i vari cambiamenti e tutte le cose che accadevano con me, poi mi rendo conto chiaramente che è difficile comunicare con centinaia e centinaia di compagni contemporaneamente, però ecco forse se ci fosse stata un po' più di comunicazione anche dentro probabilmente la debacle interna, ecco questa è quella che sostanzialmente mi ha colpito un po' di più perché ci ha reso anche più deboli nei confronti dell'esterno, ecco la percentuale legata anche ad alcune regioni importanti dove non siamo riusciti a raccogliere o meglio non abbiamo voluto, alcuni compagni non hanno voluto raccogliere le firme, beh credo che abbia avuto certamente il suo peso perché erano dell'enclave di diario radicale da sempre insomma. Ringraziamo Giorgio Pagano, gli diamo appuntamento su libri.tv. Grazie. Incontriamo Alessandro Litta Modignani che è stato candidato nella lista Amnistia, Giustizia e Libertà, membro del Comitato Nazionale di Radicali Italiani e ovviamente gli diamo anche lui delle considerazioni abbastanza, ormai si può dire, conclusive su questa vicenda elettorale anche radicale. Io sono per natura un pessimista e questa è una brutta caratteristica per un liberale perché la cultura liberale è quella che ha la massima fiducia nell'individuo e quindi essere contemporaneamente liberali e pessimisti sembra una contraddizione. Allora io voglio restare ancorato alla mia cultura liberale e avere fiducia nel popolo italiano e fiducia negli ideali di libertà e di democrazia. Devo dire che con queste elezioni il mio cronico pessimismo cosmico che purtroppo mi ha sempre preso come elemento fondamentale mio personale esce da queste elezioni straordinariamente rafforzato. Purtroppo io penso molto male di Beppe Grillo e del suo movimento e penso che quelli che hanno votato per Beppe Grillo e per il suo movimento abbiano gravemente sbagliato. Io vedo tracce di populismo, demagogia, qualunquismo, vedo un'aggressività pericolosa, una sorta di violenza latente nel linguaggio, nell'atteggiamento e poi mi ricordo anche tante cose che abbiamo letto, che abbiamo sentito. Questa proposta che nessuno ha rinfacciato a Grillo che aveva avanzato a un certo punto di togliere il diritto di voto agli anziani sopra i 60 anni. Sono cose allucinanti che un politico possa dire una cosa del genere e ottenere tutti questi voti. Anche quello che aveva detto che non è affatto vero che l'Iran è una dittatura teocratica. Ha detto questo pochi giorni prima delle elezioni, anzi ha detto che gli occidentali pensano questo perché i mezzi di comunicazione occidentali sono controllati dagli ebrei e dagli israeliani. Cose pericolosissime e quindi a me dispiace molto che i sentimenti di protesta, di rivolta, di ribellione degli italiani si siano incanalati nei confronti di un movimento politico così pericoloso. Questo risultato ha avuto alcuni effetti conseguenti non trascurabili. Per esempio in Lombardia la mia regione dove io voto e sto per tornare a vivere, dove ero candidato, una parte significativa di persone democratiche e di sinistra ha votato per Grillo, non ha votato per il candidato che era espressione del centro-sinistra e il risultato è che adesso la Lombardia dopo il Piemonte e il Veneto, anche la Lombardia è governata dalla Lega. Non mi sembra un gran risultato anche nella logica di riduzione del danno, secondo me la vittoria di Ambrosoli sarebbe stato passare, lo dico col sorriso sulle labbra, dall'eroina al metadone. Sarebbe stata una logica di riduzione del danno. Invece avremo le tre più importanti regioni italiane che producono più del 50% del prodotto interno lordo governate dalla Lega. Non mi sembra una cosa trascurabile. A Roma abbiamo un Parlamento privo di maggioranza e quando i popoli continuano a eleggere dei parlamenti che non sono in grado di esprimere un governo a lungo andare, sappiamo che nel Novecento la democrazia italiana, la democrazia tedesca sono cadute così e continuavano a leggere dei parlamenti che non potevano esprimere la maggioranza finché a un certo punto qualcuno non si è imposto. E allora tutto questo naturalmente mi lascia molto negativo. La sinistra italiana deve farsi un esame di coscienza. Ha perso queste elezioni sostanzialmente perché ha perso la sfida per il rinnovamento. Io non ho grandissima considerazione di Matteo Renzi, ma sicuramente Matteo Renzi aveva lanciato una sfida riformista e anche generazionale, quindi una doppia sfida generazionale e politica di rinnovamento alla sinistra italiana. E la sinistra italiana, proprio da un lato per la sua cultura di sinistra vecchia tradizionale che non è riformista e da un altro lato per le sue tendenze burocratiche, di questo apparato burocratico che c'è intorno a Bersani di autoconservazione, la sinistra ha completamente fallito la sfida del rinnovamento che Renzi aveva lanciato. E infatti alle elezioni i risultati si sono visti. Devo dire che questo trittico, il successo di Grillo, il sostanziale insuccesso di Bersani e anche questo grande ritorno che mai personalmente avrei immaginato di Berlusconi sono cose che lasciano pensare molto male per il futuro. Alessandro, abbiamo parlato di tutto tranne dei radicali. Due parole, dobbiamo pure dirle. I radicali, ne parlavamo prima a microfoni spenti, caro Gianni tu sei un amico, io devo dire con grande franchezza che io non ho condiviso questa scelta del lancio della lista Amnistia, Giustizia e Libertà. Io credo di averlo detto per iscritto su Notizie Radicali, mesi fa in un seminario di Chianciano avevo fatto delle mie proposte, ancora di recente nelle riunioni di gruppo dirigente. Quando sono stato invitato e quando mi è stato consentito di prendere la parola ho espresso le mie critiche e le mie perplessità. Naturalmente io per spirito di servizio sono radicale da 40 anni, quest'anno ho acquistato per il quarantesimo anno consecutivo quattro decenni di militanza politica alla mia testa del Partito Radicale e quindi io mi sono sentito in dovere per spirito di gruppo e anche per riconoscenza di dare una mano a questa. Però devo dire onestamente che questa scelta secondo me non era una scelta fatta obbligata, non è stata una scelta felice. Abbiamo secondo me da parecchio tempo ci siamo incanalati su un cammino che ci avrebbe portato inevitabilmente in un vicolo cieco e quando ci siamo trovati in fondo a questo vicolo cieco purtroppo i risultati sono stati questi. Grazie Alessandro, appuntamento quindi su liberi.tv per queste e le altre interviste. Grazie ancora. Grazie a voi, ciao Gianni. In compagnia di Mario Sedrini, segretario di Radicali Italiani, chiediamo ovviamente una considerazione complessiva e conclusiva su questo esito elettorale per quanto riguarda la lista Ministria, Giustizia e Libertà e anche su quello che vorrà dire ovviamente. Credo che l'analisi vada innanzitutto sull'intero momento elettorale che abbiamo vissuto e credo che all'interno di questa analisi si spiega anche quanto abbiamo vissuto, ciascuno penso anche Radicali ha vissuto, chi con uno stato d'animo, chi con un altro, ma credo che poi alla fine quelli che sono stati fatti non possono in qualche modo aver diviso più di tanto nella sensazione interiore. La sensazione è quella di comunque volere in qualche modo, ciascuno ha la sua idea, qualcuno ha la sua strategia, la sua tattica, il suo modo di corrispondergli, il proseguimento di qualcosa che è una lotta che si scrive in direi 50 anni della storia radicale, ma credo anche in chi nella storia ci ha preceduto portando avanti la stessa battaglia, che in questo caso è la battaglia per l'affermazione dell'unica garanzia vera che c'è perché ci possa essere il benessere maggiore per le comunità italiane e mondiali e ci possa essere la maggior difesa e garanzia di opportunità a quelli che sono gli ultimi o più deboli e stiamo parlando cioè delle due conquiste storiche che sono state lo stato di diritto da una parte e la democrazia, il funzionamento democratico dall'altra, che sono conquiste storiche che oggi si vedono necessariamente nella condizione di essere da una parte indebolite, erose, dall'altra nella necessità esse stesse di aggiornarsi, di aggiornarsi anche rispetto a quelle che è stata, uno parla di tecnologia, di progresso tecnologico, quelli che sono stati appunto i limiti anche politici e che rispetto ai quali le tecnologie possono essere la valvola di affondamento o la valvola invece di superamento di quelli che sono i punti deboli, di crisi degli stati di diritto e delle democrazie nel mondo. L'Italia è la punta di diamante su questo, è la nostra analisi storica per cui anche questa volta credo abbiamo documentato, lo faremo anche successivamente, quelle che sono state le modalità con cui si è arrivate a questo momento del voto e i tentativi anche che abbiamo nel corso di questi anni e da ultimo nel corso di questi mesi cercato di inserire per qualcosa. Noi sapevamo da subito che queste elezioni si sarebbero svolte in condizioni antidemocratiche, è qualcosa che accade da tanto tempo e che denunciamo come radicali da tanto tempo ma questa volta ha avuto addirittura io credo e dovremo analizzarlo anche successivamente non per avere degli alibi ma solo per approfondire e raffinare l'analisi, queste ultime elezioni hanno raggiunto probabilmente un livello anche di qualità nella loro antidemocraticità, differente dal punto di vista qualitativo anche non solo quantitativo, dal passato e credo che riusciremo anche su questo, continueremo anche come Radiche Italiani a fornire il nostro contributo alle iniziative nell'ambito della giurisdizione internazionale e di quella linea tracciata dal congresso del Partito Radicale cercheremo di dare il nostro contributo per delle iniziative giuridiche e giurisdizionali che credo questa volta non solo in Italia, non solo all'estero ma anche in Italia potranno avere almeno un accertamento. Dicevamo non sarà questa ovviamente l'unica iniziativa anche perché se da una parte abbiamo questo filo da continuare a correre per il semplice fatto di riuscire a fare in qualche modo dei passi avanti affinché nel futuro non si abbiano condizioni dello stesso tipo. Quanto abbiamo fatto ad esempio sui sondaggi, anticipando di un mese, un mese fa con la nostra inchiesta, quello che oggi viene riconosciuto un po' da tutti sicuramente cambierà e rispetto al futuro non ci potrà più essere, almeno nello stesso modo io spero che non ci sia proprio, quel rapporto viziato tra media e sondaggi che a un certo punto ha determinato anche nei mesi e negli anni precedenti la possibilità stessa per gli italiani di immaginarsi quali potessero essere le soluzioni e le proposte alternative. Oltre a tutto quello che è successo e che con i dati di Betto riusciremo anche a documentare credo in maniera abbastanza chiara in termini alla distribuzione di quelli che sono state le possibilità di conoscenza da parte degli italiani sia prima che dopo l'inizio della fase elettorale sui temi e sui protagonisti. Sappiamo però anche che rispetto al passato c'è stata una differenza, nel senso che da una parte abbiamo avuto grandi quantità di ascolti garantite ad alcuni partiti sempre i soliti e a quali non sono corrisposte però le stesse percentuali di voto che tendenzialmente potremmo aspettarci, proprio perché c'è stato un raffinamento di quello che è il sistema e l'interrelazione tra media e scelte elettorali in cui dobbiamo riconoscere che Grillo pur avendo e dovendo la sua crescita esponenziale alla televisione che comunque rilanciava le sue parole, al tempo stesso però si è costruito attraverso un altro media a quella base iniziale di forza che gli consentiva appunto di almeno rompere il primo muro. Tutto questo credo che fa parte di quella che è un'analisi all'interno della quale e a partire anche dalla quale, consapevoli di questo, è nata anche la scelta elettorale radicale, lo possiamo anche ricordare sinteticamente. Da una parte noi abbiamo avuto un primo momento, partiamo semplicemente da novembre-dicembre in cui di fronte a queste condizioni antidemocratiche avevamo anche la certezza di non poterle sovvertire completamente ma al massimo di poterle semplicemente attenuare. Ci siamo riusciti ad esempio in parte per quanto riguarda l'accesso alla raccolta alle elezioni riducendo grazie alle iniziative radicali fuori e dentro il Parlamento a far ridurre per tutti quanti a 25.000 firme la raccolta necessaria per presentarsi alle elezioni, sulla televisione non siamo riusciti a incitere quanto avremmo sperato pur sapendo che c'era comunque una difficoltà di partenza perché il sistema si è chiuso, però al tempo stesso da qui è nata anche da questa consapevolezza un dibattito iniziale tra partecipare o non partecipare alle elezioni politiche e successivamente si è partiti prima con l'indicazione, il tentativo di un progetto complessivo che era quello di che si richiamava alla rosa nel pugno per poi concentrarci invece su una lista di scopo che aveva comunque una sua forza, la forza da una parte di riuscire almeno al di là di quello che sarebbe stato il risultato elettorale in qualche modo a dare a inserire nella campagna elettorale quell'obiettivo, quel tema che è la questione democrazia, la questione Stato di diritto concentrata e indicata in particolare nel fallimento della giustizia e nella necessità di ripartire con l'amnestia. Allora questa lista di scopo aveva comunque questo di partenza di possibilità e la possibilità invece che potesse competere pur essendo elezioni truccate di fatto in questa campagna elettorale era legata al tentativo di ritrovare quelle personalità che ti permettessero di superare al tempo stesso le difficoltà nell'accesso alle elezioni prima e di prendere i voti dopo. Su questo si è svolto lo sciopro della sede durissimo di Marco Pannella in questo tentativo che però non è stato premiato dalla partecipazione, dall'aiuto che era in qualche modo richiesto come ragionamento, come convinzione quindi alle grandi personalità che non si sono candidate o a quelle che poi alla fine a una disponibilità di massima non hanno corrisposto definitivamente. Di qui credo nel momento in cui questo tentativo ambizioso, rischioso, non è riuscito a avere successo e nel momento in cui al tempo stesso anche le richieste di ospitalità che erano la possibilità di poter arrivare ad avere un risultato almeno in teoria che ti poteva aprire le porte del Parlamento, a quel punto la campagna elettorale è rimasta come iniziativa politica e quindi il risultato in quanto tale credo che a nessuno possa aver sorpreso più di tanto viste non solo le condizioni antidemocratiche ma anche il fatto che la stessa lista era una lista che non presentandosi in tutta Italia non aveva la forza ovviamente di attrarre anche quel voto di speranza per poter superare il quorum. Quindi credo questa è un'analisi che possiamo fare anche abbastanza tranquillamente per descrivere quanto è accaduto e spiegarcelo noi che già tendenzialmente lo amo a priori. Se andiamo a vedere però il contesto più complessivo beh allora c'è un discorso anche di ragionamento politico che viene in qualche modo credo anche inverato da alcuni fatti nel senso che in particolare se andiamo a vedere il vero sconfitto di questa campagna elettorale cioè il Partito Democratico possiamo anche mettere in fila le cose che dimostrano i fatti che dimostrano il punto debole, il punto che secondo me ha causato la sconfitta del Partito Democratico e anche la situazione attuale ed è quello di aver pensato ancora una volta di poter vincere non restituendo a tutti i cittadini il rispetto delle regole che sono fondamentali perché ci possa essere vera democrazia ma semplicemente invece la convinzione di poter a regole truccate puntare sui propri punti di forza per poter prevalere sull'altro. Questo è stato il ragionamento errato politico del Partito Democratico che ha così portato a mantenere il Porcellum perché pensavano di trarne un vantaggio che ha portato a mantenere il sistema della disinformazione in questa maniera, nella stessa maniera pensando che i Ballaroi, Fabio Fazio consentissero comunque insieme ai corpi sociali, sindacali, cooperative che si hanno nel paese a battere Berlusconi e ancora una volta invece Berlusconi che è il re delle partite truccate essendo ancora una volta l'uomo del conflitto di interessi e dei conflitti di interessi si è rivelato più bravo di loro, riuscendo a questo punto a riportare tutta la situazione nella situazione precedente nella quale appunto giustamente il popolo italiano ha individuato in Movimento 5 Stelle la possibilità di dare il suo segnale, il segnale che in qualche modo non gli andava bene. L'appello alla stabilità che veniva fatto o da Berlusconi o da Bersani come chiave per fare il voto utile. Il voto utile se lo erano bevuti già tante altre volte gli italiani, questa volta non hanno abboccato anche perché hanno capito che la stabilità di questo a cui veniva chiesto il voto era in realtà la stabilità dello status quo, della partitocrazia e delle solite situazioni. Allora un blocco sociale importante, devo dire molto variegato, ha trovato la risposta come aveva trovato ai tempi del referendum nel 2011 o magari anche nel voto per Pisapia, quello come luogo per manifestare il proprio consenso politico. La domanda ci può essere ovviamente. I radicali possono, potranno, potevano rappresentare anche qui anche loro una formula di risposta da parte degli italiani. Beh io credo che innanzitutto dobbiamo guardare anche verso il futuro come prima cosa e credo che se veramente ci convinceremo e comprenderemo anche l'aggiornamento della nostra analisi che però io ritengo ancora centrale e fondata e che ci differenzia dagli altri che è quella sulla democrazia italiana e anche quella sull'avere una serie di proposte che attraverso i canali ufficiali, dei media ufficiali non possono essere conosciute e che sono le proposte sulla giustizia ma penso alle proposte sul finanziamento pubblico, le proposte sulla legalizzazione delle droghe, sulla legalizzazione dell'eutanasia, della prostituzione, dell'immigrazione e quant'altro. Per non parlare poi di quello che abbiamo elaborato a livello di enti locali, di bilanci pubblici, io ho fatto appunto un giochetto su internet, lo trovate su Staterini.it in cui paragono e confronto l'anagrafe pubblica degli eti dei radicali con il politometro di Beppe Grillo. Per cercarne affinità e divergenze direbbero i compagni di Togliatti ma facendo anche vedere appunto quello che ancora oggi abbiamo di forte. Riusciremo a trasformarlo anche in consenso elettorale ma io più di più che di questo al momento ritengo importante verificare se riusciremo a tradurlo in iniziativa politica ancora una volta che sarà un'iniziativa di vita per quanto riguarda gli italiani tra virgolette extra parlamentare nel senso che quindi si rivolgerà anche e soprattutto ai metodi non avendo noi rappresentanti in Parlamento se non quelli che si iscriveranno anche a radicali italiani da altri partiti e cercare attraverso la democrazia diretta e le iniziative popolari quella strada che può rafforzare anche la battaglia che è quella per lo Stato di diritto e la democrazia che trova da una parte nei ricorsi internazionali dall'altra invece nella necessità di riporre subito l'attenzione sul come riuscire a ottenere il provvedimento di amministia che faccia ripartire la giustizia un po' come il focus della nostra iniziativa futura questo è un po' il commento più a caldo ma credo che avremo delle occasioni presto come radicali italiani abbiamo una direzione convocata per questa domenica e poi avremo il comitato penso nelle prossime settimane per cui avremo le sedi ufficiali e via in compagnia di Mina Welby co-presidente dell'associazione Luca Coscioni qui a Torre Argentina le chiediamo e oltretutto anche è stata candidata nella lista amministra di giustizia e libertà le chiediamo una considerazione un pochino complessiva sull'esito di queste elezioni e anche magari qualche considerazione sulle prospettive di lotta che possono attecchire in queste nuove forze politiche che sono risultate vincitrici le tematiche ovviamente dell'associazione Luca Coscioni allora quello che posso dire delle elezioni è molto breve è soltanto di prendere in considerazione i fatti e basta insomma non ci sono tanti commenti da fare non voglio nemmeno toccare la cosa della non conoscenza della gente di noi perché per esempio qui a Roma ci hanno conosciuto per strada quando abbiamo raccolto firme quest'estate insomma da anni che ci conoscono sanno chi sono i radicali quindi però credo che ognuno è libero di votare chi crede fosse meglio però non non valutano bene veramente le cose importanti credo che c'è una grande non conoscenza della gente perché non non indaga veramente non chiede non non guarda perché poi in modo particolare sulla riforma della giustizia noi l'abbiamo detto in tutte le salse la gente pensa troppo alla pancia ecco quello che io voglio continuare e credo che tutti i miei compagni siano d'accordo con questo di continuare a lavorare come abbiamo sempre lavorato con l'associazione Luca Coscioni continueremo a fare politica dal basso come anche i radicali lo fanno sempre chi non era dentro il Parlamento l'ha fatto anche da fuori meno male che avevamo i nostri compagni che hanno lavorato veramente molto molto bene in modo particolare io vedo qui Maria Antonietta Falina Coscioni che è la nostra presidente onoraria dell'associazione Luca Coscioni era contentissima tutte le volte che la incaricavamo per fare una un'interrogazione o darci anche delle informazioni più precise su quello che si stava facendo eccetera quindi questa è una bellissima collaborazione io spero che si continuerà magari con contatti dall'esterno a poter influire un pochettino anche sul Parlamento sperando che duri non lo so sento da tante parti che questo governo non durerà perché non ha la possibilità di governare vediamo che cosa faranno si faranno conoscere e nei prossimi tempi noi cominceremo a raccolta firme per la legge sul di proposta sì di proposta dei cittadini iniziativa popolare sul rifiuto delle terapie e anche sull'eutanasia e lì faremo tavoli coinvolgeremo cittadini avremo il tempo dal 15 marzo fino al 15 settembre io spero di raccogliere veramente tante tantissime firme anche perché la gente è assolutamente d'accordo perché dal 50% sono salite al 64% le persone che accettano anche l'eutanasia e vogliono che si faccia una legge dell'eutanasia e sono molto contenta che possiamo subito proporre di nuovo le nostre le nostre scelte per i cittadini non mi resta che augurarvi buon lavoro buon lavoro all'associazione Luca Coscioni e facci sapere perché LibriTV come sai è vicina a queste tematiche e vogliamo documentarle anche per quanto riguarda la raccolta firme sì e poi non è soltanto questo in ballo la nostra segretaria Filomena Gallo è stata veramente molto molto premiata con varie cose proprio sulla legge 40 che ha soltanto ancora l'ultimo baluardo da combattere da debellare la fecondazione eterologa e spero che anche questo nei prossimi tempi ci riesca grazie Mina Welby